Buongiorno a tutti. Adesso vi parlo delle mie auto. Io ho avuto una 124, prima macchina, un'Alfa? 124 Fiat. Fiat 124? Poi ho avuto una Alfa Sud 124 marce, poi ho avuto Alfa Sud 124 marce, poi ho avuto Alfa Sud 125 marce. Poi ho comprato una Hyundai. Una Hyundai come? 125 marce. Che colore? Bianca. Ci racconti un po' delle sue macchine e quanto ce le ha avute ad esempio? Le più meglio macchine erano l'Alfa Sud. Che l'ha avuta per ben tre volte, giusto? Tre volte. Faceva Modena, Modena Capua, provincia di Caserta, una tirata, 660 chilometri. Aveva un carburatore molto capiente e andava anche forte. Lo faceva 170. 170 chilometri orari? E hai mai avuto una macchina a diesel? No. Solo benzina? Solo benzina. Io sono un benzinaio. Conti un po' della Hyundai. Lei mi ha detto che aveva una Hyundai i20, giusto? Adesso ce l'ho. Adesso ce l'ho. Adesso alla Hyundai i20. Quanti chilometri c'è percorso più o meno? Non lo so, 10.000. 10.000, 20.000. A lei le piace guidare oppure no? Sì, mi piace guidare. E le piace andare piano oppure veloce? Normale. 110, 120. Ci va? 130. Sì, in autostrada 160. Ma a lei le piacciono le corse automobilistiche? Non tante. Ci può parlare un po' della Fiat che ha avuto? Ha avuto una 124. Era una bestia era. È stata la sua prima auto? Eh, è stata la prima auto, 124. Quanti cavalli aveva? Era un 1.200. Sì? Quasi tutti i 1.200 ha avuto? Eh, perché sa... Costavano quelli di cilindrata grande? No, consumavano. Consumavano benzina. Allora, come ho cercato di prendere le macchine che non consumavano troppo. Eh, ma il diesel costava più della benzina? Le macchine costavano più del diesel? Cioè, se una macchina era a diesel, costava più di una macchina a benzina? Eh, no, dipende. C'era quella del diesel che costava meno di quella da benzina. C'era quella da benzina che costava meno di quella di diesel. Senta. Il diesel però consuma anche di meno. E il motore si usura anche di meno. Eh, lo so, ma... A me piace. Sempre a benzina che sono andata. Capito. Va bene, grazie mille signore. Senta poco ma sento. Arrivederci. 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 Arrivederci.